Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì 22 agosto si prospetta una giornata complessivamente instabile all'estremo sud per effetto di infiltrazioni più fresche e le alte quote provenienti dal nord atlantico. Andrà molto meglio al nord dove splenderà ovunque il sole e al centro Italia dove avremo cieli poco nuvolosi e qualche rara nota instabile relegata ai monti quindi in appennino. In Abruzzo si prospetta un inizio di settimana generalmente stabile con tanto sole al mattino nel pomeriggio possibilità di addensamenti in montagna con degli acquazioni dei temporali molto brevi e isolati. Cieli poco nuvolosi altrove. In serata nubi in ulteriore aumento però con rari fenomeni relegati per lo più alle coste. Le temperature in ulteriore lieve calo le massime tra i 26 e i 28 gradi, minime tra 16 e 23 gradi. Quindi clima tutto sommato gradevole e leggermente al di sotto delle medie del periodo. Con questo è tutto grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.